Sta per partire la seconda edizione del Master per Manager di Rete Bancaria, Mareba. Un Master che dà la possibilità ai candidati che saranno selezionati di essere assunti fin da subito in Banca Carigia via un percorso di formazione che ha carattere di unicità nel suo genere. Da questo punto di vista affrettatevi perché il termine è fino al 19 di aprile alle ore 12, quindi sul sito di Università di Genova nella sezione laureati potete trovare tutte le informazioni utili per aderire a questa iniziativa.